Musica Buonasera, buonasera a Don D'Arigi, in primo piano ancora la vicenda che sta interessando la società del Cogesa, capigruppo consigliare senza la minoranza che diserta, i buoi ormai sono scappati, dicono i consiglieri, intanto è stato fissato il consiglio comunale per il prossimo lunedì, facciamo il punto nel nostro servizio. Un tentativo di chiudere la stalla dopo che i buoi sono sfuggiti, per questo la minoranza consigliare ha disertato nel pomeriggio la conferenza del capigruppo convocata per fissare il consiglio comunale straordinario sulla situazione in atto nella partecipata Cogesa. In una nota i consiglieri di minoranza, eccetto Luigi Santiglia, hanno annunciato che non prenderanno parte al consiglio comunale fissato per il prossimo lunedì alle ore 15, perché ritenuto dannoso per l'intero territorio, acquirebbe il gravissimo strappo già posto in essere secondo la minoranza, ovvero l'elezione di Gerardini a vertice del Cogesa, voluta da parte dei comuni soci. A nostro giudizio, si legge nella nota dell'opposizione, Il sindaco bene farebbe ad accedere alla richiesta avanzata dai sindaci che non hanno condiviso la linea della rottura, provvedendo, dopo la convocazione del Comitato per il controllo analogo, a revocare in autotutele provvedimento di decadenza degli amministratori e la nomina, in loro sostituzione del dottor Gerardini, così sanando il grave burnus generato con tale legittimo provvedimento e allo stesso tempo a convocare un consiglio comunale, al fine di avere un mandato dalla città e dalla intera assise, e quindi il più ampio possibile sulle scelte da combiere, e alla fine aprire confronto con tutti i 67 sindaci soci, nella logica che gli enti sovracomunali sono di tutti, non solo, di una o l'altra coalizione. Purtroppo così non sarà perché il sindaco di Piero è ostaggio del PD e di quella parte di esso che dialoga con il gruppetto di sindaci protagonisti di quella che noi definiamo una pessima pagina istituzionale, e tuonano i consiglieri di opposizione. Resta l'invito rivolto al sindaco di Piero di tornare sui propri passi in merito all'elezione di Franco Gerardini a capo di Coggesa. D'altronde proprio oggi era arrivata la richiesta di convocazione di controllo analogo da parte dei sindaci rifidanti all'ordine del giorno nella richiesta di convocazione. Proprio la revoca di tutti gli atti adottati nell'assemblea del 30 dicembre, quindi anche la nomina di Gerardini e la sfiducia al CDA ormai decaduto. La cronaca giudiziaria, pestaggio alla cucina dopo averla immobilizzata, quattro anni di reclusione per un 42enne, una pesante condanna inflitta quest'oggi dal Tribunale di Sulmona. Sentiamo che cosa era successo nel nostro servizio. Quattro anni di reclusione, interdizione dei pubblici uffici per un periodo di cinque anni, risarcimento della parte civile da liquidare in separata sede, e pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.753 più gli oneri accessori. E questa è la pena combinata dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, un 42enne di Raiano, D.T., le sue iniziali, finito alla sbarra questa mattina, per la violenza privata, le lesioni aggravate e cagionate congiuntamente alla sua ex, a una sua cugina, stando almeno all'imputazione della Procura della Repubblica, che citò entrambi a giudizio. La donna aveva patteggiato un anno e dieci mesi di reclusione davanti al giudice per le udienze preliminari, per l'aggressione nei confronti della cugina, nonché ex del suo ex. I fatti risalgono al 9 settembre 2017, sarebbero stati commessi sul territorio di Raiano. Stando al castello accusatorio, il 42enne avrebbe cagionato lesioni personali alla persona offesa, giudicate guaribili in 40 giorni di prognosi, come si evince dalla rifertazione, dove aver afferrato per i capelli la donna, averla colpita con un pugno al volto, facendola cadere a terra. La vittima sarebbe stata inoltre immobilizzata con le ginocchia, stretta al collo dall'uomo dopo essere stata bloccata con le braccia, mentre la sua rivale in amore le tirava un pugno e l'afferrava per i capelli. Un vero e proprio pestaggio, secondo l'accusa che ha configurato anche l'aggravante della commissione del fatto in più persone riunite, approfittando della zona isolata e dell'orario notturno. La vittima, assistita dall'avvocato Alessandro Scelli, rimediò anche una malattia e un'incapacità da attendere alle ordinarie occupazioni. D'altronde, secondo sempre l'accusa, non poteva nemmeno sottrarsi all'aggressione per essere stata immobilizzata. Da qui l'altra ipotesi di reato di violenza privata. La donna si era rivolta alla polizia, che curò l'indagine, con la squadra anticrimine del commissariato PS di Sulmona, coordinata all'epoca dei fatti dal sostituto commissario Daniele Lerario. Un quadro probatorio solido, almeno secondo il giudice, che ha inflitto la pesante condanna a 42enne, quattro anni di reclusione, più l'interdizione e il risarcimento. Torniamo al crollo del ponte di Molina a Terno. Due tecnici scritti sull'apposito registro degli indagati, un atto dovuto per la procura che va verso l'incidente probatorio. Intanto tarda la rimozione. Facciamo il punto nel nostro servizio. La procura della Repubblica di Sulmona ricorrerà all'incidente probatorio per far luce sulle cause alla base del crollo del ponte di Molina a Terno. Come atto dovuto sono stati scritti sul registro degli indagati due figure tecniche, una della provincia proprietaria della strada, l'altra del genio civile che ha competenza sull'alveo fluviale. L'evento si è verificato nel pomeriggio dello scorso 18 gennaio, quando probabilmente per l'esondazione del fiume a Terno il ponte ha ceduto anche a causa dei detriti accumulati dalla precipitazione. La scarsa manutenzione con gli arbusti che hanno occupato l'alveo fluviale ci avrebbe messo del suo. L'esondazione dell'Aterno avrebbe inoltre provocato l'abbassamento del livello stradale per 50 centimetri circa. In attesa degli sviluppi investigativi, la situazione resta sostanzialmente bloccata. Tarda la rimozione con tutte le conseguenze del caso per i proprietari dei terreni collocati nella circostanza. Una situazione esplosiva dietro le sbarre delle carceri abruzzesi, in particolare proprio a Sulmona, nel piazzale di vittime del dovere, è stato proclamato lo stato di agitazione. Sentiamo. Carenze di organico sovraffollamento dei detenuti, la presenza di soggetti reclusi con problemi psichiatrici, per il corso ordinario e lo straordinario, è una mala gestione dei detenuti, che creano tutte le condizioni necessarie per far sì che i poliziotti penitenziari siano maltrattati, aggrediti, talvolta perfino malmenati. Tutto questo in quel che appare come un vero e proprio disinteresse da parte dell'amministrazione penitenziaria. A metterlo nero su bianco sono le sigle sindacali di SAP, OSAP, WILPA, USPP, CISL e CGL, che indicano lo stato di agitazione per le carceri abruzzesi. La situazione dietro le sbarre, soprattutto a Sulmona, risulta sempre più esplosiva, senza usare mezzi termini. Nei giorni scorsi un pentino di mafia ha tentato di impiccarsi in cella ed è stato salvato dagli agenti penitenziari. Lo stesso aveva aggredito un agente con un estintore e aveva allagato l'intera sezione del penitenziario di massima sicurezza, per non parlare di quanto è avvenuto nell'area sanitaria del carcere, dell'incendio in cella appiccato da un altro detenuto che ha dato alle fiamme il materasso. Chiediamo ai competenti uffici di avviare una revisione delle piante organiche non più rinviabile, di intraprendere una politica gestionale degli istituti improntata a rendere sicuro il lavoro della polizia penitenziaria, scrivono le organizzazioni sindacali. L'invio immediato di poliziotti al supporto degli istituti più in sofferenza, la ripresa del progetto di revisione dei circuiti penitenziari regionali, la riduzione o comunque un'equa distribuzione delle presenze di detenuti psichiatrici, provvedere anche all'incremento delle figure essenziali nelle carceri abruzzesi, come psichiatri, educatori. Al momento abbiamo una percentuale altissima di detenuti con problemi mentali. Gli psichiatri si vedono poche volte al mese, per non parlare degli educatori, che sono così pochi da rendere necessario il supporto dei poliziotti penitenziari per le ordinarie mansioni d'ufficio delle rispettive aree pedagogiche. La tenuta del sistema richiede, insomma, interventi urgenti. Diversamente si rischia di esplodere nel vero senso della parola. Una sulmona in versione cenerentola con l'ordinanza antichiasso. Come è stata ribattezzata, arrivano le prime reazioni, con richieste due deroghe al mese. Facciamo il punto. Un tavolo di confronto con gli amministratori, una richiesta di deroga per due sabati al mese. Arrivano le prime reazioni all'indomani dell'ordinanza emessa dal sindaco della città, Gianfranco Di Piero, che ha limitato la diffusione della musica in centro storico. Una sulmona che appare sempre più in versione cenerentola, per dirla con le parole degli operatori, stanto agli orari indicati nel provvedimento. Un'ordinanza completamente inaccettabile, tuona l'associazione Abruzzo e Gain di Alessandro Di Prata. Così si limita il lavoro, si favorisce l'esero dei giovani nei paesi limitrofi e della costa, producendo un doppio effetto negativo, sia per i genitori, che si vedono costretti a sapere i loro figli fuori sulmona, sia per l'economia circolare della città, che chiaramente si indebolisce sempre di più. Se è vero che al peggio non c'è mai fine, è altrettanto vero che è paradossale far pagare eventuali multe ai gestori dei locali per il chiasso prodotto all'esterno dei locali stessi. È chiaro ed evidente ormai che questa amministrazione sta combattendo una guerra spietata senza precedenti contro i giovani, allora che lo dicono a chiare lettere, che hanno scelto di stare dalla parte degli anziani, che vogliono sulmona come una residenza per anziani a cielo aperto. Chiediamo urgentemente un tavolo di confronto con l'amministrazione per porre rimedio a questa ordinanza. Intanto un gruppo di esercenti del centro storico si sono prontamente attivati per chiedere un incontro all'amministrazione comunale al fine di pianificare una serie di eventi per la richiesta di deroga all'ordinanza. Più o meno si tratta di due sabati al mese, soprattutto in taluni periodi dell'anno. Se la residenzialità deve essere tutelata, come pure la ricettività, resta assai discutibile per gli operatori le modalità adottare dal comune che ha partorito il provvedimento dalla sera alla mattina. Dopo la serie di incontri e compartimenti stagni, meglio sarebbe stato mettere in sinergia e diversi punti di vista per addivenire all'aduzione e all'illustrazione dell'ordinanza, fermo restando all'esigenza della disciplina per il popolo della notte. D'altronde se ne parla anche nelle piazze e nei quartieri della città. Fermi in a quella prima parte a tra poco con le nostre notizie. Bimbo Mania effettua sconti dal 50 al 70% sull'abbigliamento invernale ed estivo e puericultura. Cosa aspetti? Corri da Bimbo Mania a Sulmona, in Viale della Repubblica 7, telefono 0864 66 22 10. Dal 1967 la ditta Fallucca è specializzata nella lavorazione della carpenteria metallica fine. Taglio, foratura, saldatura e trattamenti di zincatura anche a caldo. Ogni particolare, una volta finito, viene sottoposto al controllo qualità. Disponiamo anche di un negozio di ferramenta completo di tutti i prodotti necessari a chi opera nella carpenteria metallica, nell'edilizia e officine meccaniche. Basto assortimento di articoli delle migliori marche Capriol, Beta, Dewalt, Montolit, Raimoni, Faraone, Rosi, Betoniere Imer, Ponteggi, Carpedill e Messersì, Fallucca, Viale dell'Industria Sulmona, telefono 0864 25 13 48 25 10 35. Fidati dell'esperienza. L'impresa di molti servizi La Sirenetta esegue lavori di pulizia e attività di giardinaggio, amministrazione di condomini, traslochi, assistenza anziani H24, facchinaggio, sgombero locali, volantinaggio, piccoli lavori di edilizia idraulica, verniciatura di appartamenti e di grandi ambienti. Inoltre, preventivi gratuiti, prezzi imbattibili e massima serietà. La Sirenetta è a Sulmona in via 25 aprile numero 20, telefono 0864 547 553 oppure 366 22 82 36. Per la tua spesa c'è il nuovo supermercato Tigre Amico. In via Gennaro Sardia Sulmona, strepitosi offerte ti aspettano. Dall'1 al 12 febbraio, tanti prodotti a 1, 2, 3 euro. Pasta di semola de cecco, 500 grammi, 99 centesimi. Passata di pomodoro la molisana, 690 grammi, 1 euro. Arance navel, foglia, 1 euro e 49 al chilo. Birra Peroni, 66 CL, 1 euro. Olio extravergine d'oliva Farchioni, 1 litro, 4 euro e 99. Nuovo supermercato Tigre Amico, ex pick-up. Via Gennaro Sardi a Sulmona. Frischezza e qualità, a prezzi sempre convenienti. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio. Di fatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a Copp Hansape Terra Antica in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia, locali, che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali. Ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto. Parco del Gusto all'interno del Centro Agroalimentare Ansape Terra Antica di Raianu propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà rustica e gentile fino alle produzioni lattiero-caseari. Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del Centro Agroalimentare Ansape Terra Antica, statale 5 Raianu. Parco del Gusto, dove il prodotto che c'è più a cuore è il nostro territorio. Parco del Gusto. Seconda parte, ripartiamo dai problemi all'impianto. La palazzina Ather resta al freddo. Si opziona, questa volta sul serio, un esposto in procura. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Impianti attualmente non funzionanti per riscaldare la palazzina. Acqua calda a singhiozzo da circa un anno, con tutte le conseguenze del caso per le persone più fragili e disabili. Pannelli fotovoltaici e solari mai entrati in funzione, nonostante finanziamenti intercettati per installarli. La situazione non cambia negli alloggi residenziali Ather, di Viale delle Metamorfosi, a due passi dalla caserma della Guardia di Finanza di Sulmona. I disagi denunciati lo scorso settembre continuano a verificarsi con cadenza abituale, stando all'ulteriore rimostranza dei residenti. Ormai esausti, visto che in queste ore l'impianto di riscaldamento è in tilt e le abitazioni restano a freddo, con il rischio di bronchiti e raffreddamenti, per non pensare al peggio. L'esposto in procura, inizialmente congelato dopo l'interessamento dell'Ather, viene di nuovo opzionato per riprotrarsi delle condizioni di criticità. Nell'epoca del caro, con i costi dell'affitto che oscillano dai 280 ai 320 euro, ci si ritrova a consumare spese esose senza alcun controllo, circa 500 euro mensili. Non è possibile che assolviamo a tutti questi costi senza l'erogazione stabile del servizio, tuonano i residenti sul piede di guerra, pronti a chiamare in causa la Procura della Repubblica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il malfunzionamento dell'impianto che nelle ultime ore avrebbe recato non pochi disagi per le rigide temperature. Sosta tra atti vandalici e biglietti, quartiere sempre più caotico, caos viabilità, caos parcheggi nell'area della palazzina Asl dei Comboniani. Vediamo cosa succede nel nostro servizio. Trovare un parcheggio è pressoché complicato nelle ore di punta, se poi l'auto viene lasciata ridosso di cortili e abitazioni, si incappa anche nell'atto vandalico, nel biglietto semi-intimidatorio, accade in via Gorizia, nell'area degli uffici Asl del Palazzo dei Comboniani, dove fioccano le proteste per il caos, parcheggio e viabilità. Grosse criticità, dire il vero, non sono state riscontrate dalla polizia locale, ma per utenti e operatori della struttura l'accesso a servizi ambulatori non è proprio sereno e collaudato. Non sappiamo dove parcheggiare, spesso ci ritroviamo anche dei dispetti se lasciamo in sosta le vetture nei pressi delle abitazioni, denunciano alcuni operatori. Una dipendente Asli in particolare ha trovato la sorpresa dello specchietto retrovisore completamente scardinato, nonostante lo avesse chiuso. Un'altra impiegata ha scoperto qualche graffio sulla vettura parcheggiata nel quartiere, mentre un medico ha recuperato un biglietto, prendi qualche lezione in più per la patente, c'era scritto, se non altro dopo un'intera giornata di lavoro ci scappa una risata. Il problema però, vista l'abitualità, comincia ad essere serio, tenendo conto che in quella palazzina transitano minori per le vaccinazioni e quindi anche bimbi in carrozzina, disabili per le visile di invalidità, utenti per la riabilitazione motoria. L'ingresso per i disabili è posteriore, ma non è neanche quello di facile accesso, per cui si preferiscono le scale. Non a caso, il palazzo di Viagorizzi è stato inserito nel novero degli immobili da liberare, tant'è che l'Asla ha bandito recentemente una manifestazione di interesse per la ricerca dei locali sul territorio comunale. Nel frattempo i disagi non si fermano. Ed ora la cronaca ruspa in fiamme e paura per l'incendio in campagna fortunatamente prontamente domato dai Vigili del Fuoco. Momenti di panico nel pomeriggio di ieri per un incendio che è divampato nella rimessa di un'abitazione collocata nelle periferie di Prato La Peligna. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Sulmona, allertati sul numero di emergenza, si è reso necessario per spegnere il rogo di vampato su una vecchia ruspa in dotazione alla rimessa. Un evento di carattere puramente accidentale, come confermano gli addetti ai lavori, impegnati per circa due ore nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell'area che si trova in una zona di campagna. La colonna di fumo aveva spaventato e non poco il proprietario dell'abitazione, da qui la richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco. Fortuna che il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il peggio e limitato i danni. Torniamo alla raccolta dei rifiuti. Caos Mastelli, un'inciviltà senza freni, nel vero senso della parola, così il quartiere di via Cornacchiola diventa un'altra discarica. Si trasforma in una discarica in centro abitato. Vediamo. Mastelli pieni, rifiuti conferiti in strada, la scena raccapricciante arriva da via Cornacchiola nei pressi delle case Pav dove la situazione rischia di precipitare su fronte della raccolta dei rifiuti. La montagna di buste che fanno da cornice a quartiere soprattutto in prima serata sarebbe dovuta alla modifica dell'ecocalendario e quindi allo stravolgimento delle abitudini dell'utenza ma anche all'inciviltà che torna ai massimi storici e risaputo infatti che i rifiuti dei quartieri limitrofi vengono conferiti proprio in quel piazzale di via Cornacchiola che si sta trasformando in una sorta di isola ecologica in centro abitato. Se è vero che una revisione del calendario della raccolta dei rifiuti va sicuramente perfezionata, ieri in tal senso si sono incontrati il comune e la società partecipata a Cogesa, non si può fare a meno di rimarcare l'abitualità di certe, insane, abitudini figlie di uno stigma culturale pressoché nullo, necessario, anzi urgente, invertire la rotta per recuperare la civiltà. Il Centro Servizi per il Volontariato ha aperto le sue porte attraverso l'Open Day, un mondo da esplorare, da conoscere, che danno di giro nel servizio. Ormai vicino al 10 febbraio 2023, data ultima, entro cui è possibile presentare la candidatura per uno dei tanti progetti di servizio civile universale. Il Centro Servizi per il Volontariato a Bruzzo prosegue la sua attività di promozione sui territori con un Open Day. Tante infatti le diverse opportunità a disposizione di ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni e che intendono impiegare un anno della propria vita in un progetto per le comunità della Valle Pirigna o dell'Alto Sangro. Tra gli oltre 700 posti disponibili all'interno dei vari programmi figurano infatti due posti presso la sede di Sulmona del CSB Abruzzo, 14 presso le diverse sedi della cooperativa sociale Oridon Service tra Sulmona, Castel di Sangro e Canzano, due presso la prologo di Torre di Castel di Sangro e di Castel di Ieri, presso l'Anfas di Sulmona, quattro presso l'Anfas di Castel di Sangro e molti altri ancora. Diversi anche i progetti attivati all'interno delle amministrazioni comunali con otto posti presso le sedi dei comuni di Sulmona, due a Castelvecchio e su Becco, tre a Goriano Sicoli, due a Molina Terno, una a Rivisondolo, due a Rocca Casale, quattro a Gagliano Terno, tre a Raiano, quattro a Prato della Peligna. L'Open Day è l'occasione per approfondire le attività previste all'interno di diversi progetti. Nel corso della giornata gli operatori di servizio civile universale, attualmente in servizio, sono stati a disposizione per rispondere a tutte le curiosità degli interessati e per fornire il necessario supporto per la compilazione e l'invio della domanda. Cettina Marzia, allora, questi giovani che vengono mandati qui, che accedono a questo vostro invito nell'Open Day, ecco, che cosa devono fare? Dove andranno? Allora, i ragazzi sono stati invitati a venire qui in ufficio oggi perché c'era questo Open Day, però possono venire anche nei prossimi giorni perché c'è questo bando di servizio civile che scade il 10 febbraio e nel nostro territorio, sia sul Mona ma anche nei comuni limitrofi, ci sono tanti posti a disposizione dei ragazzi che vogliono appunto scegliere il servizio civile e quindi svolgere un anno presso un ente di accoglienza che possono essere associazioni, cooperative, anche comuni, certo, anche di molti comuni sia della Valle Pelinia che dell'Alto Sangro hanno disponibilità di posti appunto per i ragazzi. Come possono iscriversi? Li aiutiamo sia a individuare il progetto più adatto a loro e sia proprio praticamente a fare la domanda. Una cosa bisogna dirle che ricevono qualche compenso, ma che non è un compenso è un rimborso spese. Una sorta di rimborso spese. quant'è? E chi tira pure questi soldi? Allora, la cifra che loro percepiranno ogni mese, nell'anno in cui svolgeranno il servizio civile, è di 444,30 euro e direttamente il Ministero, lo Stato, che paga questi ragazzi per lo svolgimento di questo servizio. E a conclusione dell'anno di servizio civile avranno anche un certificato che attesta questo svolgimento che dà loro diritto a un punteggio nel caso in cui vogliano fare domanda per dei concorsi pubblici. quindi è anche un'attività che poi viene riconosciuta. Michela, allora, come sei arrivata qui a questo luogo per svolgere un'attività di servizio civile? Tramite i miei studi universitari ho capito che volevo, diciamo, crescere anche personalmente e anche, diciamo, formarmi di più. e quindi ho scelto avere un'esperienza maggiore di quella scolastica di quella universitaria e quindi ho scelto di fare il servizio civile presso l'Anfas di Sulmona. Com'è andata? Benissimo, io lo sto svolgendo, va benissimo, è un'esperienza bellissima che consiglio a tutti quanti. Bene, allora il nome? Io Andrea. Andrea, allora, questa esperienza com'è andata? Allora, io diciamo che ho iniziato da pochissimo praticamente, però posso dire che ha ampiamente superato le mie aspettative per ora. Io ne sono, ho saputo del servizio civile tramite la mia famiglia, tramite amici, tutti insomma mi hanno presentato questo tipo di percorso e un percorso di crescita personale insomma che consigliere assolutamente a tutti e che mi ha portato in un contesto molto molto propositivo anche un'apertura verso il mondo del lavoro soprattutto un'apertura verso il mondo del lavoro perché si entra nelle classiche dinamiche che si trova in ogni ambito di lavoro bisogna anche organizzarsi mentalmente come se si stesse facendo un lavoro alla fine. Anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Sono stati vinti 10.000 euro nel pomeriggio in una tabaccheria di Prato La Peligna non nuova giocate grattate fortunate il tagliando vincente del gioco miliardario è stato venduto dal titolare a una donna che dove aver rimosso la patina sui numeri è corsa incontro al proprietario per ringraziarlo quello venduto era infatti un biglietto con il lingotto d'oro che permette di moltiplicare per 10 il premio indicato in questo caso 1.000 euro la vincita a mondo infatti a 10.000 euro nel 2021 nella stessa ricevitoria di Massimo Arcella la Dea Bendata consegnò una coppia a mezzo milione di euro stesso importo portato a casa lo scorso 14 dicembre da fortunato giocatore che grattò un miliardario nella tabaccheria del Tribunale di Sulmona la fortuna sembra aver trovato terreno fertile nella vallata ora la nostra finestra dedicata alla sanità con il carcinoma alla tiroide tutti i consigli per una corretta alimentazione ma anche per un sano stile di vita ne parliamo come sempre con Maria Luisa Roscino alimentazione e cancro un'associazione nota già da tempo ai medici e ai addetti ai lavori un'alimentazione sana ed equilibrata può dare un importante contributo alla prevenzione dei tumori così come l'eccessivo consumo di alcuni alimenti può fare aumentare il rischio di sviluppare determinati tipi di cancro il rischio di tumore della tiroide viene influenzato dall'alimentazione in particolare aumenta in alcuni casi fino a raddoppiare in presenza di indice glicemico e carico glicemico elevati quali alimentazioni e stili di vita corretti allora è necessario seguire ne parliamo oggi con la dottoressa Maria Grazia Carbonelli direttore unità di dietologia e nutrizione ospedale San Camillo Forlanini di Roma un corretto stile di vita che vuol dire sana alimentazione e buona attività fisica è importante anche per la salute della nostra tiroide in particolare l'alimentazione è importante per questa ghiandola perché lo iodio che è il principale componente degli ormoni tiroidei viene preso proprio dall'alimentazione e è importante perché aiuta appunto la tiroide a funzionare bene quindi se noi facciamo una buona alimentazione ricca di iodio sicuramente preveniamo una serie di malattie legate alla tiroide se però abbiamo delle patologie quindi se la ghiandola è già malata è chiaro che con l'alimentazione non può essere curata in questo caso conviene rivolgersi ovviamente ad uno specialista per fare una terapia farmacologica adeguata ma vediamo dove si trova in particolare lo iodio che aiuta la funzionalità della tiroide lo iodio si trova prevalentemente nell'acqua di mare e quindi i pesci che vivono nell'acqua di mare sono ricchi di iodio è per questo che si consiglia il consumo di 2-3 volte a settimana del pesce per favorire ovviamente l'assunzione di questo elemento ma lo iodio si trova anche nell'evaporazione dell'acqua di mare che ricade poi come pioggia sul terreno quindi nelle zone vicino al mare sia le verdure che crescono su questi terreni e sia gli animali che si nutrono di foraggio derivante da questi terreni sono ricchi di iodio è per questo che le zone marine sono più avvantaggiate rispetto alle zone montane e perciò l'organizzazione mondiale della sanità ha deciso di arricchire il sale con lo iodio in modo che tutte le popolazioni possono avere un adeguato apporto di iodio con l'alimentazione quindi l'organizzazione mondiale della sanità ci consiglia di usare poco sale ma iodato altre due sostanze importanti che sono fondamentali per la tiroide sono lo zinco e il selenio queste due sostanze si trovano non solo negli alimenti che abbiamo già citato ma si trovano anche come fonti vegetali in alcune verdure nei legumi e nella frutta secca una particolare attenzione deve essere posta a non esagerare con il consumo di alcune verdure come le crucifere cioè cavoli cavolfiori broccoli e broccoletti perché se ne consumiamo in elevata quantità questo può interferire con l'assorbimento dello iodio un altro discorso importante riguarda il mantenimento di un giusto peso per quanto riguarda la prevenzione delle malattie legate alla tiroide perché l'aumento di peso e soprattutto la deposizione di grasso viscerale si è visto essere correlato ad un aumento non solo appunto dell'obesità ma anche delle malattie tiroidee e addirittura anche dei tumori tiroidei quindi mantenere un giusto peso e ridurre la percentuale di grasso viscerale ci aiuta a prevenire anche le malattie e i tumori della tiroide e quindi questo uno stile di vita insieme ad una sana alimentazione sicuramente è un metodo preventivo che noi possiamo attuare facilmente seguendo le semplici regole che ci dice l'organizzazione mondiale della sanità cioè consumare almeno cinque razioni al giorno tra frutta e verdura poco sale maiodato pochi condimenti e soprattutto condimenti buoni come l'olio extravergine di oliva non esagerare con l'alcol perché anche questo è legato spesso a problemi tiroidei e fare poi una sana attività fisica www.ondadv.tv i nostri riferimenti il nostro sito internet dove potete seguire tutte le notizie in tempo reale anche la pagina facebook adesso collegata io a questo punto mi fermo qui grazie per averci seguito a tutti una buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti